Musica Bentrovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per venerdì 11 novembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che questa sarà interessata da una perturbazione che apporterà fenomeni di stabilità soprattutto lungo le regioni che si affacciano sul Tirreno, sulle regioni centrali e quelle di nord-est, mentre sulla Puglia, sulla Sardegna e sulle regioni di nord-ovest avremo tempo generalmente più stabile. La ventilazione risulterà provenire dai quadranti settentrionali e i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi, in particolar modo il mar di Sardegna. Nel dettaglio al mattino sull'Abruzzo avremo condizioni di cielo nuvoloso, molto nuvoloso su tutta la regione, tuttavia a partire dal pomeriggio i cieli diventeranno coperti e avremo le prime piogge, in particolar modo nelle zone interne e sull'alto Terramano. Nel corso della sera, ma in particolar modo dalla nottata, avremo condizioni di stabilità diffusa con piogge e rovesci che interesseranno tutto il territorio regionale. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Musica Musica